Parliamo un po' di Tartaruga Ninja Chaos Mutante, ci tengo a farvi vedere di nuovo per chi non l'avesse visto il trailer perché è uno degli aspetti più importanti, l'aspetto estetico di questo film, forse è uno di quelli che mi ha convinto ad andare all'anteprima stampa Anteprima stampa di appunto Tartaruga Ninja Chaos Mutante in cui ho ricevuto questo fantastico portapizza che ora vi aprirò, in realtà due portapizza perché all'anteprima ci sono andato con mio figlio quindi ci hanno regalato due portapizza, fette di pizza ovviamente, vedete che è a forma di fetta di pizza si può mettere nel microonde e poi dentro c'ha tipo insomma lo spazio per le pizze, si può anche appunto allungare perché potreste avere veramente tantissime pizze, vedete, allora si allarga così e diventa veramente una roba che una tartaruga ninja penso che impazzirebbe per averlo, invece no, nelle fogne, nelle vivere grazie comunque per il gadget, ci metterò la droga ci tengo a farvi vedere il trailer, guardate bene le immagini guardate lo stile dei disegni che sono chiaramente fatti, penso con una serie di tecniche miste, non lo so 3D sicuramente ormai sono talmente al di fuori di questo mondo dell'animazione del 3D lo seguo anche poco che non ho idea di com'è fatto so solo che il risultato è fighissimo, guardate la regia, il montaggio e adesso non ricordo se ne è il trailer fate caso alla musica dove siete stati? sconfiggiamo Superfly e tutti ci accetteranno siete delle tartarughineine insieme non c'è nulla che possa fermarvi CAUABACCA! il film, appunto, come avete visto, sarà al cinema il 30 agosto e vi dico già che io mi sono divertito come un pazzo non sto scherzando il trailer è un po' particolare, secondo me, perché non mostra l'anima al di là dell'aspetto estetico dove possiamo vedere effettivamente che c'è un ci sono dei disegni stupendi uno stile fantastico anche la regia è bella però l'anima del film è un po' nascosta quello che si è voluto fare con il trailer è mostrare l'aspetto di questo film più infantile quindi più legato ai bambini io sono andato al cinema pensando questo film è un film assolutamente per bambini per bambini piccoli ragazzi giovanissimi fan delle tartarughe ninja ma pensavo che i fan delle tartarughe ninja comunque adulti potessero rompersi abbastanza le palle a vedere questa pellicola in realtà mi devo ricredere è in parte come me l'aspettavo ma sotto certi aspetti è molto molto meglio di come me l'aspettavo perché il film è scritto molto bene farei anche un elogio alla trascrizione delle battute e dei dialoghi insomma delle parti comiche perché mi hanno fatto ridere chiaramente la sensazione che ho per esperienza è che probabilmente in inglese sono geniali addirittura perché se sono così divertenti le trasposizioni le traduzioni appunto di dialoghi in italiano non voglio immaginare in inglese perché? perché le trasposizioni dei dialoghi in italiano devono tenere conto di alcune cose quindi hanno dei limiti quindi la lunghezza e il labiale eccetera per cui riuscire comunque a portare delle battute e degli sketch che siano divertenti sia per i bambini che per gli adulti non è stato semplice questo film mi ha fatto ridere sguaiatamente sguaiatamente almeno cinque volte in tutta la pellicola proprio ad alta voce nonostante ribanga un film con alcuni momenti soprattutto estremamente infantili cioè rimane comunque un film per bambini ma che ha un linguaggio molto accessibile a entrambi i target quindi gli adulti e bambini un altro aspetto che sicuramente mi ha aiutato tantissimo a rimanere agganciato alla storia che è una storia molto semplice una trama dove vede appunto delle tartarughe che entrano in contatto con una sostanza radioattiva che le rende umanoidi fondamentalmente però sono dei teenager sono dei teenager esclusi dalla società perché sono dei mostri quindi c'è tutto il tema dell'inclusività la stessa loro amica umana è una persona esclusa abolizzata dalla società quindi il tema fondamentale di tutta l'opera è l'inclusività però sono state cambiate un pochino di cose nella narrazione quindi il film risulta anche meno noioso per chi conosce già la storia che è una storia semplice la cosa che mi ha divertito di più oltre appunto a certi sketch a certe battute è la musica la colonna sonora piena zeppa di pezzi rap anni 80 bellissimi remixati all'interno del film lo rendono più gradevole piacevole anche per l'adulto in qualche modo riesce a supportare bene proprio la narrazione il film è estremamente bello da vedere è proprio bello è anche un po' horror perché i personaggi umani sono disegnati in modo piuttosto inquietante sono e non si vede bene nel trailer questo che vi voglio dire che tanti aspetti mi hanno sorpreso il fatto che sia un film con tantissime parti cupe con proprio personaggi cupe inquietanti un po' weird un po' brutti strani animazioni meravigliose combattimenti divertentissimi per me ragazzi è uno dei migliori film d'animazione che ho visto negli ultimi anni cioè mi ha ricordato veramente parecchio il primo Spider-Man nel multiverso qualcosa del genere il primo il film comunque che ha vinto l'Oscar come animazione questo Tartaruga Ninja non so se si avrà la stessa fortuna ma ci si avvicina parecchio a quel livello lì è un film che a me è piaciuto veramente tanto anche perché la mia aspettativa era quella di vedere un film carino ma che poi alla fine è scritto esclusivamente per i bambini in realtà no in realtà non è scritto esclusivamente per i bambini cioè la trama è molto semplice è infantile in un certo senso perché stiamo parlando di teenager che hanno l'aspetto di tartarughe però la comicità molto acuta molto brillante fa ridere anche l'adulto quindi arrivi diciamo alla fine senza senza sbadigliare e quindi per me è un è un grandissimo sì questo tartarughe ninja caos mutante è un grandissimo sì ma ripeto è comunque un film che ha un target che non sono gli adulti nonostante penso che molti molti adulti lo potranno apprezzare tantissimo inizialmente nel fumetto originale le tartarughe ninja erano descritte così ecco vedete come hanno gli occhi bianchi sono sono proprio più serie come come prodotto ecco questa è una sorta di citazione che c'è nel film cioè loro fanno una specie di corsa poi si si posizionano sopra questo tetto in posizione e poi dopo tornano a essere però comunque delle tartarughe un po' più simpatiche no? come le vediamo per il resto del film però questa è proprio palesemente una citazione di come erano originalmente le tartarughe ninja nel fumetto lo consiglio al 100% a chiunque sia un bambino un ragazzino o un fan appunto un nostalgico delle tartarughe ninja non lo consiglio per quanto veramente sia un prodotto fruibile anche da adulti a chi proprio a questo mondo non si sente vicino minimamente in questo film si parla di inclusività cioè le tartarughe ninja non escono mai allo scoperto perché hanno paura di essere picchiate e uccise perché appunto c'è un episodio che terrorizzerà da splinter che è il loro papà un ratto anche lui modificato da un fluido e lo stesso anche i cattivi sono contro gli umani perché gli umani non li accettano e la stessa protagonista femminile l'umana amica delle tartarughe è una nerd che per via di un piccolo incidente al liceo diventa lo zimbello di tutti e viene marginata il tema del bullismo è molto sentito nei film americani da sempre quindi c'è un fortissimo tema sull'inclusività e ci sono due approcci cioè l'approccio dei cattivi è eliminare chi è diverso da te in modo che tu non debba lavorare duramente per essere appunto accettato incluso nella società sembra quasi di vedere la figura dell'immigrato che arriva in un paese quindi i mutanti cattivi superfly appunto che vedete anche nel trailer rappresenta proprio questo dall'altra c'è un altro tipo di di emarginato che possiamo sempre vedere come una figura di immigrato di persona che è in un paese dove le persone non sono uguali a lui quindi le tartarughe che però scelgono di essere accettate facendosi conoscere come eroi quindi facendo qualcosa di buono per la società chiaramente è un qualcosa di positivo però è anche triste dovrebbe essere un diritto questa inclusività anche a chi è diverso e quindi mi ha un po' aperto questa domanda cioè nel senso il concetto è che se io sono diverso non devo per forza fare qualcosa di grandioso per avere gli stessi diritti degli altri mi devo comportare in modo esemplare ed essere un eroe quando si portano temi sociali in un film che comunque ha l'intento di intrattenere sono più ad uso il consumo dell'intrattenimento e in questo film è percepito non mi sento di fare una critica al non aver approfondito in modo intelligente il tema dell'inclusività perché l'inclusività appunto deve essere un diritto a prescindere però ecco questo film non pretende di essere questo non pretende di essere questo cioè usa il tema sociale ad uso il consumo del divertimento limitandosi a fare un discorso molto in superficie molto diverso invece quello che accade con Barbie dove è stata fatta tutta una propaganda su quanto questo film vuole essere importante quindi probabilmente non avrebbe ricevuto critiche anche se fosse stato un film più simile a questo qua ben fatto tra l'altro questo questo è fatto bene quello là insomma questo è un po' tutto per quanto riguarda la mia opinione riguardo a tartaruga ninja caos mutante devo dire che io ci sono abbastanza affezionato a questo film e se dovesse capitarmi l'on video mi dispiacerebbe averlo mi piace molto molto esteticamente grazie 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 a tutti